durante la dinastia gorieo la famiglia reale e i nobili commissorarono ai pittori di corte più esperti la produzione di opere d'arte a tema buddista sistemate accanto al letto della persona morente queste ne avrebbero propiziato la salvezza e la rinascita nel paradiso occidentale del buddha questo esemplare risalente al xiv secolo è caratterizzato da una composizione equilibrata un tocco preciso ricchi motivi geometrici colori morbidi e abbondanti linee dorate che testimoniano il gusto ricercato della dinastia gorieo accompagnato da due servitori bodhisattva ossia creature sagge uno in piedi l'altro in ginocchio amitabha buddha sulla destra accoglie l'anima del fedele in procinto di morire quest'ultimo è rappresentato dalla piccola figura in fondo a sinistra inginocchiato con il volto sollevato e le mani unite in preghiera era opinione diffusa in quel periodo che previa invocazione del nome di amitabha al devoto era concesso di rinascere nel sucavati la terra pura o la dimora pura destinata a chi era in cerca dell'illuminazione il capo di ciascuna divinità è cinto da un aureola dorata tutti e tre gli esseri spirituali poggiano su una base di fiori di loto che simboleggiano la loro presenza nel sucavati sulla veste di amitabha si può notare come i medaglioni con arabeschi ispirati ai fiori di loto immagini stilizzate dell'universo mantengano la forma circolare nonostante le pieghe della veste un raggio di luce emana da una gemma sulla fronte di amitabha è puntato verso l'anima del defunto e rafforza così il legame spirituale tra i due il volto del monaco colui che salva gli esseri dalle torture dell'inferno è l'unico che guarda verso lo spettatore è rappresentato con la testa rasata e la tunica tipica dei monaci nella mano destra tiene un gioiello che esaudisce i desideri delle anime amitabha buddha della luce divina da il benvenuto all'anima morente con un mudra in cui si toccano il pollice e il dito medio sul petto è disegnata una svastica simbolo dell'insegnamento buddista mentre sul palmo della destra si vede il chakra la ruota della legge buddista abalo kitesvara bodhisattva della compassione infinita è chinato verso la minuscola figura porta con sé il sedile di lotto dorato per trasportare l'anima nel paradiso occidentale di amitabha al centro della corona si noti l'immagine in miniatura di amitabha se ti è piaciuto il video iscriviti al canale lascia like e condividilo con i tuoi amici ti invito anche a visitare il mio negozio un saluto e al prossimo video di arte esplorando